Una domanda per entrambe. I vostri personaggi sono persone che, come tanti di noi, cercano semplicemente una vita normale e verso le quali si prova grande empatia. Volevo capire se quando li avete conosciuti, avete letto il copione, avete subito anche voi provato questo sentimento nei loro confronti. Sì, nel senso che nei confronti di Deborah è difficile non provare empatia per questo personaggio, perché comunque è una donna che vuole dare, che sta bene se dà attenzioni, se si prende cura. È un personaggio positivo in assoluto, quindi è difficile non empatizzare con lei. E nei confronti di Francesca, anche lì è facile leggere un innamoramento nei confronti di Francesca, perché questo personaggio di cui adesso parla da lei… no, quando ho letto la sceneggiatura, anche io mi sono innamorata di questi due. Come devo dire, mi sono innamorata di tutti i personaggi. Perché Giulia ha avuto un modo di raccontare le cadute, le risalite di tutti i protagonisti di questa storia che aveva una grazia particolare, no? E della loro storia mi sembrava così naturale, cioè così naturale che questa amicizia diventasse un amore. Nel momento in cui lo scoprono, non so, qualcosa brillava, no? Nell'aria, anche mentre lo leggevo, cioè ho avuto un modo di tenerezza proprio verso di loro. E a proposito di questa storia amicizia-amore che nasce, io l'ho vista più che come un'attrazione verso il genere, lo stesso genere, un'attrazione mentale. Cioè io non ho visto due donne che si scoprono magari omosessuali, ma due esseri, due persone che si ritrovano nell'altro, mentre con i loro mariti non c'è questa comunicazione, questo affetto. Cioè l'avete vista anche voi in questo modo, non lo so. Sì, sì. Infatti secondo me non è più, diciamo, non si parla di un rapporto omosessuale perché si deve trattare il tema dell'omosessualità. Piuttosto sono due donne che cercano la felicità, cioè che sono nel loro presente, hanno delle mancanze che si leggono benissimo negli occhi, che trovano ovviamente una mancanza nei confronti dei loro compagni. Però in questa amicizia c'è invece tutto quello che sembra servire per star bene, cioè per avere una naturalezza nel cercare la felicità. E a proposito dei compagni, gli uomini in questo film sembrano non uscirne proprio bene, però secondo me non sono, non è proprio un ritratto negativo, cioè non li vedo come cattivi, ma come semplicemente incapaci di amare, di vivere. Non so se è la, diciamo, visione giusta. Guarda, Fabrizio Bentivoglio in conferenza stampa ha detto una cosa molto giusta secondo me che gli uomini in questa storia semplicemente sono distratti, cioè semplicemente non ci pensano che prendere un succo di frutta sia per me che per te sia un gesto d'amore, no? è come se, sì, è come se pensassero che l'amore debba essere altro, cioè qualcosa di più, non so, grande o pra, è come se, sì, è come se fossero distratti, più che non sono i cattivi della storia, affatto. È un film che, in cui c'è un grande equilibrio fra dramma e commedia, e volevo capire se è difficile, no, non scadere, come interpreti, nel magari anche ricattatorio, cosa che appunto non avviene, cioè come si riesce a creare questo equilibrio? Questo secondo me è molto merito di Giulia, della regista, perché Giulia aveva in mente esattamente il tono del film e l'arco di ogni personaggio, soprattutto il film e la sua interezza, quindi aveva chiaro, momento per momento, quello che doveva succedere a livello drammatico e a livello comico, e quindi devo dire che per me è stata abbastanza semplice perché mi sono affidata alle sue suggestioni e suggerimenti, è stato molto semplice da questo punto di vista, per me è attrice. Sì, sì, nel momento in cui è capitato anche, quando giri un film e poi ne fai diversi, ti inizi a scaldare per fare la scena, ma mi è capitato anche a me che il primo Chuck magari, non so, io mettevo qualcosa di più pesante, però Giulia è stata la rete di salvataggio per ogni scena, cioè ogni scena, lei veniva a dirti, qui prova ad essere qui, no, ci ritrova, Giulia è stata veramente la rete di salvataggio di questo film, cioè il funambolo e la rete di salvataggio entrambi. Grazie!